Sono partiti una decina di giorni fa i lavori all'interno dello storico palazzo alle porte del borgo medievale di Monbaroccio, antica dimora del matematico e filosofo Guido Baldo del Monte, l'edificio del XVI secolo è chiuso dal 2017. In quegli anni, infatti, la passata amministrazione pensò di procedere ad un adeguamento sismico quando, vista la storicità del palazzo, sarebbe stato sufficiente un miglioramento sismico. L'investimento complessivo è di 650 mila euro, cofinanziato dalla regione per circa un terzo. Oggi, con questi interventi, riusciremo a far sì che Monbaroccese, non solo, chi vorrà venirci a trovare, potrà in primavera rivisitare Palazzo del Monte, nel suo splendore, nei suoi musei, nella sua storia, nella sua cultura, un giardino che insomma parla da solo, in un palazzo che per noi è riferimento culturale. Avevamo deciso come amministrazione, dal principio, di intervenire sulla parte culturale della nostra storia, prima che ancora sulle asfaltature, e oggi ne abbiamo la riprova. A questo intervento naturalmente si stanno aggiungendo degli altri. Domani inizieremo con un intervento su Via Turlo, che è una bretella fondamentale per il nostro territorio, in particolare per i mezzi pesanti e per coloro che da Fano devono transitare su Pesaro. Con un intervento di circa 150 mila euro andremo a migliorare quella che è la viabilità. Anche lì un cofinanziamento regionale di 100 mila euro e 50 mila euro di forze proprie, quelle comunali. A questi si integrano altri 150 mila euro di intervento di discesso idroseologico che stiamo svolgendo proprio qui davanti, in strada panoramica. Un intervento che chiedeva già da anni la messa e l'avvio dei lavori e anche lì sono già partiti i lavori. 30-40 giorni dovremo dare sicurezza a quel tratto di viabilità. A questi si aggiungono altri interventi per 70-80 mila euro per la messa in sicurezza di Via Pontaccio. Per i lavori pubblici dunque si tratta di oltre un milione di euro di investimenti. Sindaco, e a proposito di storie di Monbaroccio, oggi partirà per Roma? Partiamo per Roma dove questa sera saremo ospitati al Cinema Troisi, al Festival del Cinema di Roma dove presenteremo il nostro docufilm. Docufilm che ha cominciato la sua storia qualche anno fa, addirittura nel 2009 quando le scuole cominciarono a interfacciarsi con quello che è il percorso della memoria per poi far sì che in questo circuito con l'intervento delle scuole, con l'intervento dei frati, dei francescani minori, quindi con il Beato Sante, le scuole, la cultura, l'amministrazione è nato un libro, Siamo vivi, siamo qui, che oggi può diventare un film. In questo percorso c'è un documentario che è stato predisposto, che è stato valorizzato circa un mese fa presso lo sperimentale di Pesaro e ci inseriamo anche in un contesto particolare, quello del rastrellamento del ghetto tedesco, del ghetto ebraico a Roma nel 16 ottobre del 1943. Quindi in quel contesto i nazifascisti riuscirono ad accedere alle liste dell'anagrafe del Comune di Roma, cosa che non avvenne a Milano e quindi da qui tutto il percorso della famiglia Sarano. A Milano si salvarono in tantissimi, a Roma purtroppo non succede lo stesso e quindi ci tenevamo a essere a Roma, ci siamo e Monbaroccio a Saranella Capitale.